Si è tenuta qualche sera fa presso l'Aula Consigliare del Comune di Bello Sguardo l'Assemblea pubblica convocata dall'amministrazione comunale retta da Geppino Parente per discutere del problema sicurezza dopo i vari episodi di microcriminalità che stanno suscitando molta preoccupazione tra i cittadini. L'incontro è stato convocato dopo il furto di un'auto qualche notte fa, avvenuto in pieno centro urbano che tuttavia non è l'unico caso perché negli ultimi mesi si stanno verificando vari furti in abitazione. Molta la preoccupazione dei cittadini che hanno partecipato numerosi all'incontro durante il quale è stato costituito un comitato presieduto dall'assessore Peppe Troncone composto da cittadini, amministrazione e dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Bello Sguardo. Si vuole puntare molto sul sistema di videosorveglianza che recentemente è stato potenziato con l'installazione nei punti strategici del territorio di otto telecamere di ultima generazione in grado anche di individuare le targhe dei veicoli. Scartata fin da subito invece l'ipotesi di organizzare ronde notturne che oltre a sfociare nell'illegalità potrebbero essere occasione di rischio per chi le organizza. Infine l'amministrazione comunale ha stabilito di organizzarsi in sinergia con i comuni limitrofi puntando all'installazione di telecamere in diversi punti del vasso territorio per provare ad identificare eventuali ladri.